Ben ritrovati gentili amici con la consueta informazione da parte della redazione genovese di Imperia TV. Partiamo subito dalla cronaca perché il soccorso alpino valdostano ha attivato le ricerche di due alpinisti che risultano dispersi sul massiccio del Monte Bianco. Alcune tracce riconducibili agli stessi alpinisti sono state individuate nei pressi di una valanga nella zona del bivacco Eclè a 3860 metri. I due alpinisti sono un italiano di sesto elevante Daniele Colombo, 36 anni, nato a Recco e il suo amico sloveno di 34. I due avevano raggiunto il rifugio presso Monzino a 2590 metri in direzione appunto del Pic Eclè, la punta più alta, la vetta maggiore del Monte Bianco sul versante italiano. Momento di speranza mista a disperazione e rassegnazione poiché le ricerche continuano ma dei due alpinisti ancora non vi è traccia. Torniamo adesso in città perché il comune di Genova e nella persona dell'assessore Porcile chiede maggiore attenzione a IREN sulla rete idrica dopo le recenti esplosioni, vere e proprie esplosioni di tubazioni che hanno allagato diverse zone e parti della città come quartieri di San Desiderio oppure San Teodoro, Cornigliano, Castelletto e Oregina. Insomma il comune chiede maggiore attenzione e controllo da parte della rete idrica per quanto riguarda le tubazioni per evitare che ulteriori esplosioni avvengano nel territorio genovese. Passiamo ora ai trasporti perché arriveranno oggi le squadre delle ferrovie a risolvere la questione AMT che ha visto appunto i treni della metropolitana deragliare durante una prova. Insomma dieci mesi dalla consegna i mezzi che dovrebbero implementare il servizio sotterraneo della cittadina sempre più richiesto sono ancora assolutamente da mettere in ordine e collaudare. La dimostrazione si è avuta proprio qualche giorno fa quando durante una delle molte prove che i tecnici stanno effettuando uno dei treni di 40 metri appunto con sei carrozze è finito fuori dai binari nell'area di servizio della stazione di Negro. A quanto pare secondo alcune discrezioni sarebbe stata una manovra sbagliata del conduttore. Diciamo pratiche comuni compresa quella dell'errore umano. Tuttavia le prove continuano e nonostante alcuni errori e difetti che appunto sono stati riscontrati a queste carrozze si pensa di riuscire a riattivare il servizio maggiorato e con più efficienza nel minor tempo possibile. Da Genova è tutto e da Matteo Sacco la più cordiale. Buona giornata.